Siamo con il capo della mobile Fabio Zampaglione che ieri ha arrestato un uomo di 46 anni in seguito a un'indagine per violenza sessuale su due sorelline minorenni. Come è andata l'indagine? L'indagine è nata a seguito di una denuncia presentata nell'estate scorsa dalla mamma delle vittime e è stata condotta in maniera riservatissima per alcuni mesi per riscontrare quello che era stato denunciato e grazie anche a delle ricostruzioni testimoniali, attività di intercettazione, pedinamente e appostamento, si è riscontrata l'attendibilità di quello che la mamma aveva denunciato, del suo sospetto. Una vicenda aggravata dal fatto che l'uomo era anche il patrigno di queste due ragazzine, quindi una storia molto delicata. Molto delicata perché la mamma di queste tre sorelline, perché erano tre le sue figlie avute da un precedente matrimonio, si era trasferita in Italia nel 2005. Aveva iniziato una convivenza con l'arrestato che è stata burrascosa quasi subito a causa del suo carattere violento e anche per il fatto che faceva uso a dire della convivente di sostanze alcoliche. Lui approfittando dell'assenza quotidiana per motivi di lavoro, perché questa donna si dava da fare per chiaramente cercare i mezzi di sostentamento alle figlie, nel 2007, quindi due anni dopo l'inizio di questa convivenza, ha iniziato ad avere attenzioni sessuali su una dodicenne, una delle figlie che era la più grande, ma all'epoca di fatti dodicenne. Qual è quindi la misura che ora è stata applicata per quest'uomo? È stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il GIP ha previsto anche il divieto assoluto di contatto, quindi di avvicinamento alle due vittime.